Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presenteremo la fibra ottica. La fibra ottica permette di trasportare luce ed anche immagini. In questo caso vi presenteremo la fibra ottica che trasporta luce, quindi non quella che trasporta immagini. Il concetto è molto semplice. Da un punto si mette la sorgente luminosa, quindi abbiamo una lampada una torcia e dall'altra parte possiamo trasmettere la luce. Vediamo che la luce viene convogliata e viene trasportata. Non è altro che sono dei cavi flessibili e questa è la fibra ottica, il principio della fibra ottica che trasmette luce. Quindi possiamo portare anche in punti remoti la luce attraverso questa fibra che si può anche piegare, è molto facile da convogliare, chiamata fibra ottica. Qui vediamo vari tentativi di trasporto della luce. Facciamo vedere un po' come funziona, alcune focalizzazioni. Abbiamo anche fatto sempre questa dimostrazione utilizzando anche con una luce spenta per vedere se riusciamo a una luce che c'è intorno per riuscire a evidenziare meglio il fenomeno del funzionamento della fibra ottica. Vedete che è un cavo che si piega facilmente. Qui abbiamo spento la luce intorno, abbiamo lasciato solo la luce della torcia. Vedete quanto focalizza. Quando non si vede niente è perché una parte della fibra ottica è stata allontanata dalla sorgente. Qui vediamo che sta funzionando bene. Ecco, spostiamo, non sta funzionando perché ci allontaniamo dalla sorgente. Facciamo vedere che è una lampada, che è una torcia. Avete visto il principio della fibra ottica, come funziona la fibra ottica che trasmette luce. Buona giornata e continuate a seguirci. Grazie. Grazie.